Nel calcio c'è una regola elementare, per vincere bisogna segnare. L'ha applicata alla perfezione una cinica team Altamura contro un Nardò che esercita un lungo possesso palla, ma difetta in precisione anche dagli 11 metri. Il 2-1 finale è forse una punizione un po' severa per gli uomini di Taurino, ma adesso uge una scossa dopo aver incassato la terza sconfitta consecutiva, eppure il primo tempo aveva fatto presagire tutt'altro. Al dodicesimo la prima occasione da golle di Arario, tiro deviato, ed al ventinovesimo Caldore commette fallo su Chiedemateng, calcio di rigore. Volzone e compagni fanno però i conti col momento no dell'Italo-Ghanese, pallo centrato in pieno. Al trentaseiesimo sempre Chiedemateng ruba palla, poi il pallone finisce tra i piedi di Arario, nulla di fatto. Prima occasione da gol per la team Altamura al trentottesimo, corner e colpo di testa di Montemurro, riflessi pronti per Rizzitano. Nella ripresa i Murgiani, malgrado l'espulsione rimediata da Catinali, passano in vantaggio. Al cinquantatreesimo sblocca il risultato Palazzo, pallone in mezzo ed intervento cinico del numero nove. Al settantaquattresimo il raddoppio è servito. Tedesco avanza verso l'area dei rigode sul filo del fuorigioco e trafigge Rizzitano. All'ottantaduesimo accorcia le distanze il Nardò, calcio d'angolo, pallone che scorre, tentativo di Centonze che gonfia la rete. Assalti finali dei Salentini, al novantaquattresimo l'ultimo tentativo, ma il colpo di testa da corner di Cordella è infruttuoso. Il Nardò resta a quota 25 punti, sesto risultato utile consecutivo per l'Altamura che sale al quarto posto con 32 punti.